Grave incidente nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio intorno alle 16 all'incrocio tra la statale 26 e la provinciale 53 via Piave alle porte di Caluso coinvolte una Citroen Berlingo, un autocarro accassonato, una Fiat Punto e una bicicletta. L'impatto è stato alquanto violento, deceduto purtroppo il ciclista, illesa invece la moglie che stava pedalando con lui. Sul posto sono intervenuti 118, i vigili del fuoco di Ivrea, la polizia stradale di Chivasso e Torino, i carabinieri della compagnia di Chivasso e i tecnici ANAS. La statale 26 è rimasta chiusa al traffico diverse ore. Feriti gli occupanti dei mezzi, di quel momento non si hanno ancora notizia. La dinamica è al vaglio della polizia. Grazie a tutti.